Verona per il Milan è stata spesso fatale come una bella donna, stavolta la squadra rossonera aspira ad essere lei, fatale per il Verona perché cerca i punti per la Champions League contro un avversario al quale la vittoria serve per scongiurare la B. Verona in campo con Ferroni in porta, Paolo Cannavaro, Zanchi e Dainelli in difesa, Cassetti, Italiano, Colucci e Serici a centrocampo, Camoranensi, Frick e Mutu in attacco. Il Milan è schiera Abbiati tra i pari, Calazze, Laursem, Ciamott e Maldini nel pacchetto arretrato, Gattuso, Ambrosini e Serginio sulla tre quarti, Pirlo rifinitore alle spalle delle punte, Inzaghi e Scevicenco. Dopo il sole di stamane il cielo adesso è velato, pubblico delle grandi occasioni con buona rappresentanza milanista per l'arbitro Farina, cento undicesimo gettore in Serie A, Lina lo studio. Appoggia poi per Abbiar Zaletti che sta. Euro gol di Mutu ed il Verona è in vantaggio sul Milan quando siamo arrivati al ventottesimo minuto del primo tempo. Grandissimo tiro da fuori area, nulla da fare per Abbiati. Verona 1, Milan 0, il gol di Mutu, linea Q. Verona Milan. Padre al ritoso, Verona 1, Milan 0 per il gol di Mutu al ventottesimo minuto. Nel finale la formazione milanista ha sfiorato il pareggio, palo di Pirlo su calcio di punizione ed occasionissima sciupata da Inzaghi al 45esimo con grande parata di Ferrona. 1 a 0 lì nello studio. Fuori Zalageta e dentro Zambrotte quindi cambia nuovamente. Rigore per il Milan, calcio di rigore per il Milan, è stato atterrato un attimo fa a Calazze, ci risentiremo tra qualche istante, vai pure. Del Piero con tutti i giocatori del Brescia, Brescia che non ha effettuato la sostituzione. Adizione forma, si è assestato la palla dagli 11 metri, Serginio per il Milan. Tutto è pronto per questo calcio di rigore assegnato dall'arbitro alla formazione rosso-nera. L'area di rigore del Verona è perfettamente sgombra, si attende il via da parte del direttore di gara. Si tratta di Farina, lunga la rincorsa di Serginio. Arriva il tiro, il palo, il palo colpito da Serginio. Serginio, poi il pallone finisce nei pressi della bandierina del calcio d'angolo. Il Milan sciupa l'opportunità del pareggio. Il tentativo di trasformazione di Serginio si è spento contro il palo alla destra del portiere avversario. Tutto questo al quarto della ripresa. Il Verona è ancora in vantaggio sul Milan per 1-0 a Terrarina. È il diciassettesimo, il Verona è sempre in vantaggio per 1-0 sul Milan. Un Milan che ha guadagnato dei metri sul campo, ma è un Milan che fatica a segnare. Se è vero che Serginio al quarto ha fallito un calcio di rigore. Il Verona con Mutu e con Italiano ha fallito due buone opportunità per il raddoppio. Nel Milan è in campo contra, al posto di Gattuso. Verona 1-0, il retropassaggio di Recoba. Inzaghi, Inzaghi, Inzaghi per il pareggio del Milan a Verona quando siamo arrivati al ventesimo minuto della ripresa. Splendida azione in verticale, finalizzata con un destro rasoterra che non ha lasciato scappo a Ferrona. Verona e Milan sono adesso sul 1-1 per la squadra rossonera. Pareggio di Inzaghi a Telarine. Pancaro adesso tocca e palla, piovano fischi. Il vantaggio del Milan a Verona. Il vantaggio del Milan a Verona con Pirlo quando siamo arrivati al trentasettesimo minuto della ripresa. Milan 2-1, il gol di Pirlo a Telarine. E questo è un gol importantissimo perché in questo momento per il quarto posto Milan e Bologna sono a quota 52 con un punto di vantaggio sul Chievo e due punti di vantaggio sulla Lazio che in questo momento sarebbe fuori anche dalla Coppa UEFA. Siamo arrivati al trentanovesimo minuto della ripresa. Milan 2-1, Verona 1 con Inzaghi prima al ventesimo, con Pirlo al trentasettesimo. Il Milan ha coronato la sua rimonta. È una partita che rimane vivace perché il Verona non ci sta e cerca di reagire. Nelle file del Verona, Cossato ha preso il posto di Frick. C'è anche il finale di Verona. Milan batte Verona 2-1. Verona 1-1, Milan 2. Verona finalmente propizia e non fatale per il Milan che con le reti di Inzaghi e Pirlo ha dato corpo alla sua rimonta nella ripresa dopo che il Verona era andato in vantaggio nel primo tempo con Mutu. Vittoria meritata e Milan ha anche fallito un rigore con Serginio. Ha colpito un palo con Pirlo ed è impegnato ripetutamente Ferron. Verona ammirevole, ha sfiorato i raddoppi in alcune circostanze ma da questa sera è nei guai. Si giocherà tutto domenica nello spareggio di Piacenza. Milan batte Verona 2-1. Linea allo studio. Dunque Ancelotti, lei aveva detto voglio sei punti in queste due partite. I primi tre sono arrivati per un Milan che a questo punto ha la Champions League in pugno ed è un Milan che sul piano del carattere e del gioco ha convinto. Sì, sì. Abbiamo fatto un'ottima gara da questo punto di vista. Difficile perché al di là del gol che ha fatto il Verona abbiamo preso il palla con Pirlo, abbiamo sbagliato il rigore. Quindi la partita era in salita. Abbiamo dimostrato una grande volontà, una grande voglia di arrivare a quarti. Adesso siamo sulla buona strada. C'è ancora una grande sproporzione tra quanto crea la squadra come occasioni e poi quante ne concretizza. Sì, questo sì, però ci sta. È stato bravo anche Ferroni in alcune circostanze. Però questo è relativo. Potrebbe che la squadra giochi bene e che crei. E comunque avete un impegno abbastanza morbido domenica prossima. A questo punto la Champions è in pugno e direi che è anche un risultato che va a salvare una stagione che a un certo punto sembrava compromessa. No, dobbiamo ancora giocare e dobbiamo stare attenti a questa partita e sicuramente lei ci gioca per... Non ha niente da perdere da questa. Noi invece ci giochiamo parecchio. Vogliamo vincere e vogliamo arrivare a quarti perché è importante anche per il futuro della squadra.